Siamo con Alberto Baglioni, vincitore di gara 1 per quanto riguarda la Formula Junior. Allora Alberto, raccontaci un po' questa gara che ti ha visto triunfare su un tracciato sicuramente interessante e naturalmente non è mancata neanche la bagarra. Raccontaci un po' cosa hai visto al primo giro, insomma, cosa è accaduto. Sì, al primo giro c'è stata una bella partenza come sempre, praticamente tutti erano aggruppati e praticamente nella curva che precede il rettilineo di arrivo c'è stato un testacoda che ha scatenato poi un bel incidente abbastanza tosto coinvolgendo tre macchine e fortunatamente è risoltosi tutto solo in macchine un pochettino accartocciate ma tutto bene per i piloti. Per quanto ti riguarda, naturalmente, questo risultato di oggi può essere di buon auspicio per la gara di domani. Assolutamente sì, spero che comunque la macchina si comporti come si è comportata oggi e a me andrebbe molto bene. Un successo sicuramente importante e prestigioso. Vuoi dedicare a qualcuno questo risultato? Sì, vorrei dedicarlo al mio sponsor, la Point Service, che praticamente è un'associazione di meccanici che è in tutta Italia e sono più di 2200 officine e quindi vorrei veramente ringraziarli con l'auspicio per una mano per il prossimo campionato. Grazie e complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie.